Eccoci di nuovo insieme, abbiamo iniziato già a parlottare con il dottor Salvatore Cusenza che ogni martedì impreziosisce questa puntata di Just Today, il Just Today del martedì, ecco con maggiore precisione, è quello nel quale attraverso lo spazio, la salute, vi è mangiando proprio grazie alla sua professionalità, alle sue competenze, proviamo a fare un focus sul mondo dell'alimentazione perché, lo abbiamo detto tante volte, mangiare bene significa stare meglio. Lì è la regia per la sigla e poi scendiamo nel merito. Bene, eccoci dunque insieme al dottor Salvatore Cusenza per tornare a parlare di alimentazione. Buongiorno dottore, ben trovato. Buongiorno a voi. Grazie per la tua disponibilità di sempre. Venerdì scorso è stata la giornata mondiale della pasta. Di pasta, se non ricordo male, abbiamo già parlato in passato, però è opportuno ritornare sul tema perché è un alimento principe dell'alimentazione mediterranea, di noi italiani in maniera particolare, che all'estero quando vogliono anche prenderci un po' in giro ci chiamano mangia spaghetti o mangia pasta, ecco. Quale ruolo dovrebbe avere in una sala di alimentazione la pasta nella nostra dieta? Allora, Toni, la pasta in Italia è un alimento importante. Ci sono famiglie che vivono perennemente solo con pasta a pranzo ed è un alimento che sta andando un po' in disuso verso la classe media più alta. Mentre se vediamo la classe media con un reddito più basso, tendenzialmente il pasto è fatto di pasta perché è un alimento che nutre e costa poco, però questo porta anche ad altre cose. Se andiamo a vedere l'utilizzo della pasta nei ceti meglio bassi, vediamo anche che qui c'è una maggiore concentrazione di sovrappesi, obesi e diabetici. Perché purtroppo l'eccesso di farinacidi e carboidrati porta poi a questo, ad accumulare grasso. In passato la pasta aveva una grossa funzione. Se parliamo della dieta mediterranea, il 55-65% era fatta da carboidrati, tra cui legumi o pasta, riso o quant'altro. Però dobbiamo anche ricordare che 60-70 anni fa la gente svolgeva 8-9-10 ore di lavoro manuale fisico in campagna o anche in miniera, qui stiamo nella zona della Montecatina dove c'era la miniera della bauxite. Attualmente dare tutti quei farinacidi, quei carboidrati, quella pasta non ha più molto senso perché il report di 4-5 giorni fa ha detto che in Italia ci sono 25 milioni di sovrappesi obesi, 40% della popolazione, tantissimo. Ormai l'obesità e il sovrappeso è la patologia del millennio. È quello che porta a tantissime morte, tantissimi diabetici, infarti, ictus, tumore e quant'altro. Noi siamo ciò che mangiamo, mangiamo male, ci ammagliamo prima, cambiamo di meno. Quindi bisogna un po' anche iniziare a scegliere delle paste di qualità perché purtroppo spesso si sente dire e leggere che la pasta ha il glifosato. Se c'è glifosato non è grano italiano perché in Italia è vietato da 30 anni usare il glifosato, ma è grano russo, ucraino, canadese dove le temperature non consentono al grano di maturare e si butta questo diserbante che lo secca e lo rende maturo, che è altamente cancerogeno. Quindi se c'è glifosato cambiate azienda della pasta. Ecco, possiamo con un po' di accortezza migliorare la nostra alimentazione quotidiana, anche perché la pasta è un alimento emblematico da questo punto di vista. Ridurre i quantitativi. Ridurre i quantitativi, ma intanto anche fare delle scelte più consapevoli e oculate. Per esempio scegliere la pasta a lenta essiccazione piuttosto che quella a essiccazione veloce. E questo lo riusciamo a riconoscere. Se noi prendiamo delle paste fatte bene con grani italiani, tipo di senatore cappello, grani antichi, hanno due grossi vantaggi. Non avviene la reazione dei magnardi, quindi la pasta non è gialla ma è bianca. Esatto. È bianca perché viene essiccata lentamente e anche nella cottura ha un altro profumo. Non è giallo tuorlo. E poi sono paste italiane con un glutine vecchio stampo. Il glutine è la proteina del grano che dà molti problemi al nostro intestino. Se noi mangiamo una pasta di grani antichi, il nostro intestino lo riconosce, la nostra genetica lo riconosce e non ha problemi. Ma questi grani moderni, iperproteici, ipercomodi per il pastificio o per il pizzaiolo, nel nostro intestino causano gonfiori, diarrea, stitichezza, molti problemi. Gluten di gluten sensibility. Quindi scegli una pasta di grani antichi e soprattutto che sia fatta in Italia. E all'intessicazione, come dicevamo. L'intessicazione perché non rovina le proprietà organolettiche della pasta. Facilmente riconoscibile perché è una pasta che si presenta all'aspetto visivo più chiara, quasi più ancastra, rispetto a quella gialla tuorlo. Gialla tuorlo che viene essiccata nei forni o nelle camere ad alte temperature in un'oretta. Mentre la lenta essicazione viene fatta in 24 ore. Ecco, poi l'altra riflessione che è opportuno fare sul tema è che se ci pensiamo un pacco di pasta, anche se spendessimo il doppio rispetto a quello che spendiamo abitualmente, hai detto una cosa giusta, esatto. Avrebbe un costo, un'incidenza su persona davvero irrilevante. Parliamo di pochi centesimi. Facciamo dei conti. Un chilo di pasta buona costa intorno a 5-6 euro. Se noi dessimo 70 grammi a porzione, con un chilo faremmo 13 porzione. verrebbe 40-50 centesimi, 40 centesimi a porzione di pasta. Quale prodotto costa meno di 40 centesimi a porzione? Anche una mela costa di più. Anche una banana costa di più. Ma molte volte noi ci... Nella nostra mente c'è il concetto che la pasta deve costare un euro al chilo. Ma un euro al chilo? Il grano è da dove proviene? Non si sa. Sì, è lo stesso ragionamento che vedevo in un video proprio qualche giorno fa quando si parlava di olio extravergine d'oliva perché sono i giorni della cultura delle olive. Esattamente, è un altro problema grosso. Ci ricordava il divulgatore come, ecco, ci poneva la domanda e dovrebbe farci riflettere, come pensiamo di portare a casa olio extravergine d'oliva se lo paghiamo una fesseria al litro quando solo il costo della manodopera, del lavoratore che deve tirare giù le olive, in realtà... Incide per 4-5 euro al litro. Esatto. Solo quello. Poi ricordiamoci che l'olio è un nutriacetico, ha tantissime proprietà antiossidanti, quindi un olio buono funge anche da protettore del corpo. Tornando alla pasta, cosa importante sulle farine, noi siamo abituati a riempirci di farine doppio zero. Le farine doppio zero, tra l'altro, è l'unica farina dove non si creano insetti all'interno perché è talmente lavorata che non cresce niente all'interno. Se noi prendiamo una farina uno o due, quindi meno raffinata, dopo un po' iniziano a creare delle larve. Quindi dovremmo scegliere farine meno raffinate, uno o due, o addirittura integrali. Dove per integrale, farina integrale, non si intende la farina doppio zero mischiata con la crusca. No. È il chicco del grano macinato completamente, compresa la germe del grano. Quella è la farina integrale, non doppio zero più crusca. Quella è una truffa, non è farina integrale. Bene, dottore, sono veramente contento di essere tornato su questi temi perché, come dicevamo, la pasta, alimenti collegati come il pane, i biscotti, sono cibi che quotidianamente portiamo sulle nostre tavole e che mangiamo. E quindi le opportune riflessioni, i consigli che abbiamo dato spero possano aiutarci a mangiare meglio e per stare appunto meglio. Prossima settimana, a questo punto, potremo parlare proprio di olio, visto che, come anticipavamo, siamo nei giorni della raccolta, perché anche di olio extravergine d'oliva, per quanto l'Italia sia uno tra i maggiori produttori a livello mondiale, e paradossalmente, ecco, siamo grandi produttori, grandi consumatori, ma conosciamo poco questo prezioso alimento, per cui il tema per martedì prossimo ce l'abbiamo già. Olio, olio evo. Olio evo, è olio extravergine d'oliva. Bene, dunque, anche per oggi ci fermiamo qui con la salute vi è mangiando, appuntamento a martedì prossimo con il dottor Salvatore. Buona giornata a tutti. Grazie Salvatore, linea la regia e noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Grazie.